Su questo ovviamente possiamo fare ulteriori approfondimenti, avremo tutto il tempo per approfondire i vari spunti, i vari suggerimenti che sono stati posti. Per il momento io vedo come un elemento positivo, visto che questo era l'obiettivo del nostro primo incontro, che è di presentazione delle linee programmatiche del Governo, che ci sia una condivisione molto ampia sulla necessità comunque di riformare la Costituzione, quindi in qualche modo di lavorare in tempi anche piuttosto rapidi, senza comprimere quello che è il giusto approfondimento e il dibattito parlamentare, però di affrontare in modo serio il tema delle riforme e cercare davvero di arrivare poi a portare a casa il risultato, diremmo così, quindi finalmente a chiudere la parte dell'approfondimento e dell'esame, ma avere delle nuove norme.